Roma, 19.000 spettatori per Roma Sampdoria 3 a 1, dominatore della partita Amadei che sarà l'autore dei tre gol giallorossi. La porta della squadra Ligure è sottoposta a una persistente pressione. Lusetti, la Roma oggi ti fa perdere qualche chilo e Amadei, falchetto sempre in agguato, ti chiamerà uscite a vuoto e ai mutili tuffi, proprio come questo.